San Agostino San Agostino San Agostino Da bambino volevo fare il carabiniere, che in Italia è come la polizia, no? Volevo fare l'attore. Non ho fatto l'uno o l'altro, faccio il cantante, l'artista. Il cantante è uno che canta. A me piace dare, è soltanto un artista riesce a dare. Questo mi viene facile anche perché sono molto naturale. Quando canto e quando sono nella vita, sono la stessa persona. Non sono un divo, non amo essere un divo. Detesto lo schiavismo, cioè essere schiavo di un sistema. Amo la vita semplice. Amo stringere la mano alla gente per la strada. Mi piace fermarmi a cantare e a parlare con la gente. Mi entusiasmo e mi commuovo con molta facilità vedendo una persona che soffre o una persona che ha bisogno di aiuto. Questo è un grande privilegio che Dio mi ha dato e che riesce a dare delle grandi emozioni anche al mio canto. Amo stringere la mano alla gente per la strada. Amo stringere la mano alla gente per la strada. Amo stringere la mano alla gente per la strada. Amo stringere la mano alla gente per la strada. Devaiti! Viva la genta e l'ova n you! Tatatatala Viva la genta e l'ova e Giante Fichi! Vuoi farlo una volta? No, no, sì, sì.